C'era un re e aveva una figlia. La madre di questa figlia era morta e la matrigna, che era gelosa della figlia, parlava sempre male di lei al re. La ragazza si discolpava e si disperava, ma la matrigna tanto disse e tanto fece che il re, sebbene affezionato a sua figlia, finì per darla vinta alla regina e le disse di condurla pure via fuori di casa. Però doveva metterla in un posto dove stesse bene, perché non avrebbe mai permesso che fosse maltrattata. Quanto a questo, disse la matrigna, sta tranquillo, non ci pensare, e fece chiudere la ragazza in un castello in mezzo al bosco. Prese una squadra di dame di corte e gliele mise lì per compagnia, con la consegna che non la lasciassero uscire e neanche affacciarsi alle finestre. Naturalmente le pagava con stipendi da casa reale. Naturalmente alla ragazza fu assegnata una stanza ben messa e da mangiare e da bere tutto quello che voleva, solo che non poteva uscire. Le dame, invece, ben pagate com'erano e con tanto tempo libero, se ne stavano per conto loro e non le badavano neppure. Il re ogni tanto chiedeva alla moglie, E nostra figlia, come sta? Che fa di bello? E la regina, per far vedere che se ne interessava, andò a farle visita. Al castello, appena scese di carrozza, le dame corsero tutte incontro a dirle che stesse tranquilla, che la ragazza stava tanto bene ed era tanto felice. La regina salì un momento in camera della ragazza. E così, e così stai bene, sì? Non ti manca niente, no? Hai una buona cera. L'aria è buona. Su, stai, allegra. Tanti saluti! E se ne andò. Al re disse, che non aveva mai visto sua figlia tanto contenta. Invece la principessa, sempre sola in quella stanza, con le dame di compagnia che non la guardavano neanche, passava le giornate tristemente affacciata alla finestra. Stava affacciata coi gomiti puntati al davanzale, e le sarebbe venuto un callo ai gomiti se non avesse pensato di metterci sotto un cuscino. La finestra dava sul bosco, e la principessa, per tutto il giorno, non vedeva altro che le cime degli alberi, le nuvole, e giù il sentiero dei cacciatori. Su quel sentiero passò un giorno il figlio d'un re. Inseguiva un cinghiale, e passando vicino a quel castello, che sapeva da chissà quanti anni disabitato, si stupì vedendo segni di vita, panni stesi tra i merli, fumo dai camini, vetri aperti. Stava così guardando, quando scorse a una finestra lassù, una bella ragazza affacciata, e le sorrise. Anche la ragazza vide il principe vestito di giallo, e con le uose da cacciatore, e la spingarda, che guardava in su e le sorrideva. E anche lei gli sorrise. Così restarono un'ora a guardarsi, e a sorridersi, e anche a farsi inchini e riverenze, perché la distanza che li separava non permetteva altre comunicazioni. L'indomani, quel figlio di re vestito di giallo, con la scusa di andare a caccia, era di nuovo lì, e stettero a guardarsi per due ore. E questa volta, oltre ai sorrisi, inchini e riverenze, si misero anche una mano sul cuore, e poi sventolarono a lungo i fazzoletti. Il terzo giorno, il principe si fermò tre ore, e si mandarono anche un bacio sulla punta delle dita. Il quarto giorno era lì come sempre, quando da dietro un albero fece capolino una masca, e si mise a sghignazzare. «Chi sei? Che cos'hai da ridere?» «Oh, che se ne... Oh, che... Oh, che non si è mai visto due innamorati così stupidi da starsene tanto lontani!» «Sapessi come fare a raggiungerla, nonnina!» «Mi siete simpatici», disse la masca, «e vi aiuterò!» e, bussato alla porta del castello, diede alle dame di compagnia un vecchio librone in cartapecorito e bisonto, dicendo che era un suo regalo per la principessa, perché passasse il tempo leggendo. Le dame lo portarono alla ragazza che subito lo aprì. «Attenta con quelle dita! Sono un libro magico, ragazza!» «Se volti le pagine nel senso giusto, l'uomo diventa uccello!» «Fla, fla, 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 fla!» «E se volti le pagine all'incontrario, l'uccello, fla, 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 ridiventa uomo!» «Magia!» La ragazza corse alla finestra, posò il libro sul davanzale e cominciò a voltare le pagine in fretta e in fretta. E intanto guardava il giovane vestito di giallo in piedi, in mezzo al sentiero ed ecco che da giovane vestito di giallo che era muoveva le braccia, frullava le ali ed era diventato un canarino. Il canarino spiccava il volo ed ecco era già più in alto delle cime degli alberi. ecco che veniva verso di lei e si posava sul cuscino del davanzale. La principessa non resistette alla tentazione di prendere quel bel canarino nel palmo della mano e baciarlo. Poi si ricordò che era un giovane e si vergognò. Poi se ne ricordò ancora e non si vergognò più. Ma non vedeva l'ora di farlo tornare un giovane come prima. Riprese il libro, lo sfogliò facendo scorrere le pagine all'incontrario ed ecco il canarino arruffava le piume gialle, frullava le ali, muoveva le braccia ed era di nuovo il giovane vestito di giallo con le uosa da cacciatore che si inginocchiava i piedi dicendole io ti amo. Quando s'ebbero detto tutto il loro amore era già sera. La principessa lentamente cominciò a girare le pagine del libro. Il giovane guardandola negli occhi ridiventò canarino. Si posò sul davanzale poi sulla gronda poi si affidò al vento e volò giù a grandi giri andandosi a posare su un basso ramo d'albero. Allora ella voltò le pagine all'incontrario e il canarino tornò principe il principe saltò a terra fischiò ai cani lanciò un bacio verso la finestra e si allontanò per il sentiero. Così ogni giorno il libro veniva sfogliato per far volare il principe alla finestra in cima alla torre risfogliato per rendergli forma umana poi sfogliato ancora per farlo volar via e risfogliato perché tornasse a casa. I due giovani non erano mai stati così felici. Un giorno la regina venne a trovare la figliastra fece un giro per la stanza sempre dicendo stai bene sì ti vedo un po' magrolina ma non è niente vero non sei mai stata così bene no? E intanto si assicurava che tutto fosse al suo posto aperse la finestra guardò fuori e giù nel sentiero vide il principe vestito di giallo che si avvicinava con i suoi cani se questa smorfiosa crede di fare la civetta alla finestra le darò una lezione pensò le chiese di andare a prendere un bicchiere d'acqua e zucchero poi in fretta si tolse cinque o sei spilloni dai capelli che aveva in testa e li piantò nel cuscino in modo che restassero con la punta in su ma non si vedessero spuntare così imparerà a starsene affacciata al davanzale la ragazza tornò con l'acqua e zucchero e lei disse non ho più sete bevi la tua piccina io devo andare da tuo padre hai bisogno di niente no? addio allora e tanti saluti e se ne andò appena la carrozza della regina si fu allontanata la ragazza girò in fretta le pagine del libro il principe si trasformò in canarino volò alla finestra e piombò come una freccia sul cuscino subito si levò un altissimo pigolio di dolore le piume gialle si erano tinte di sangue il canarino si era conficcato gli spilloni nel petto si sollevò con un disperato annaspare d'ali si affidò al vento e calò giù a incerti giri e si posò sul suolo ad ali aperte la principessa spaventata senza ancora rendersi ben conto di che cosa era successo girò velocemente i fogli all'incontrario sperando che a ridargli forma umana gli sarebbero scomparse le trafitture ma ahimè ahimè il principe riapparve grondante sangue da profonde ferite che gli squarciavano sul petto il vestito giallo e così giaceva riverso attorniato dai suoi cani all'ululare dei cani sopraggiunsero gli altri cacciatori lo soccorsero e lo portarono via su una lettiga di rami senza nemmeno alzare gli occhi alla finestra della sua innamorata ancora atterrita di dolore e di spavento portato alla sua reggia il principe non accennava a guarire e i dottori non sapevano portargli alcun sollievo le ferite non si chiudevano e continuavano a fargli male il re suo padre mise bandi a tutti gli angoli delle strade promettendo tesori a chi sapesse il modo di guarirlo ma non si trovava nessuno la principessa intanto si struggeva di non poter raggiungere l'innamorato e si mise a tagliare le lenzuola a strisce sottili e ad annodarle insieme in modo da farne una fune lunga lunga e con questa fune una notte calò giù dall'altissima torre prese a camminare per il sentiero dei cacciatori ma tra il buio fitto e gli urli dei lupi pensò che era meglio aspettare il mattino e trovata una vecchia quercia dal tronco cavo entrò e s'accoccolò là dentro addormentandosi subito stanca morta com'era si svegliò mentre era ancora notte fonda le pareva d'aver sentito un fischio tese l'orecchio e sentì un altro fischio poi un terzo e un quarto e vide quattro fiammelle di candela che si avvicinavano erano quattro masche che venivano dalle quattro parti del mondo e s'erano date convegno sotto quell'albero da una spaccatura del tronco la principessa non vista spiava le quattro vecchie con le candele in mano che si facevano grandi feste e sghignazzavano accesero un falò ai piedi dell'albero e si sedettero a scaldarsi e a far arrostire un paio di pipistrelli per cena quando ebbero ben mangiato cominciarono a domandarsi che cosa avevano visto di bello nel mondo io ho visto il sultano dei turchi che si è comprato venti mogli nuove io ho visto l'imperatore dei cinesi che si è fatto crescere il codino di tre metri io ho visto il re dei cannibali che si è mangiato o per sbaglio il ciambellano io ho visto il re qui vicino che ha il figlio ammalato e nessuno sa il rimedio perché lo so solo io e qual è chiesero le altre masche nella sua stanza c'è una piastrella che balla basta alzare la piastrella e lì si trova un'ampolla nell'ampolla c'è un unguento che gli farebbe sparire tutte le ferite la principessa da dentro all'albero stava per lanciare un grido di gioia ma dovette mordersi un dito per tacere le maschie ormai si erano dette tutto quello che avevano da dirsi e presero ognuna per la sua strada la principessa salto fuori dall'albero e alla luce dell'alba si mise in marcia verso la città alla prima bottega di rigattiere comprò una vecchia roba da dottore e un paio di occhiali e andò a bussare al palazzo reale i domestici vedendo quel dottorino male in arnese non volevano lasciarla entrare ma il re disse tanto male al mio povero figliolo non gliene può fare perché peggio di come sta è impossibile fate provare anche a questo qui il finto medico chiese d'essere lasciato solo col malato e gli fu concesso quando fu al capezzale dell'innamorato che gemeva privo di conoscenza nel suo letto la principessa voleva scoppiare in lacrime e coprirlo di baci ma si trottenne perché doveva in fretta seguire le prescrizioni della masca si mise a camminare in lungo e in largo nella stanza finché non trovò una piastrella che ballava con questo unguento si mise a fregare le ferite del principe e bastava metterci sopra la mano unta ad unguento e le ferite sparivano piena di contentezza chiamò il re e il re vide il figlio senza più ferite col viso tornato colorito che dormiva tranquillo su chiedetemi quel che volete disse il re tutte le ricchezze del tesoro dello stato sono le vostre solo per voi on non voglio danari disse il dottore datemi solo lo scudo del principe con lo stemma della famiglia la bandiera del principe e il suo giubbotto giallo quello quello trafitto e insanguinato e avuti questi tre oggetti se ne andò dopo tre giorni il figlio del re era di nuovo a caccia passò sotto il castello in mezzo al bosco ma non levò neppure gli occhi alla finestra della principessa lei prese subito il libro lo sfogliò e il principe sebbene tutto contrariato fu obbligato a trasformarsi in canarino volò nella stanza e la principessa lo fece ritrasformare in uomo lasciami andare non ti basta avermi fatto trafiggere dai tuoi spilloni e avermi causato tante sofferenze infatti il principe aveva perso ogni amore per la ragazza pensando che lei fosse la causa della sua disgrazia la ragazza stava lì per svenire ma io t'ho salvato sono io che t'ho guarito non è vero chi mi ha salvato è un medico forestiero che non ha voluto altra ricompensa che il mio stemma la mia bandiera e il mio giubbetto insanguinato ecco il tuo stemma ecco la tua bandiera ed ecco il tuo giubbetto ero io quel medico gli spilli erano una crudeltà della mia matrigna il principe la guardò un momento negli occhi stupefatto mai gli era parsa così bella cadde ai suoi piedi chiedendole perdono e dicendole tutta la sua gratitudine e il suo amore la sera stessa disse a suo padre che voleva sposare la ragazza del castello nel bosco tu devi sposare solo la figlia di un re o di un imperatore disse il padre io sposo la donna che mi ha salvato la vita e si prepararono le nozze con l'invito per tutti i re e le regine dei dintorni venne anche il re padre della principessa senza saper nulla quando vide venire avanti la sposa figlia mia come? disse il re padron di casa la sposa di mio figlio è vostra figlia e perché non ce l'ha detto? perché disse la sposa non mi considero più figlia di un uomo che mi ha lasciato imprigionare dalla mia matrigna e puntò l'indice contro la regina il padre a sentire tutte le disgrazie della figlia fu preso dalla commozione per lei e dallo sdegno per la sua perfida moglie e non aspettò nemmeno di essere tornato a casa per farla arrestare così le nozze furono celebrate con soddisfazione e con letizia di tutti tranne che di quella povera sciagurata lascia le nozze le nozze che di tolare e non aspettò che di tolare e che di tolare le nozze che di tolare le nozze Grazie a tutti.